Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Per giorni, Barbara D'Urso ha tenuto sulle spine tutti i suoi fan con messaggi criptici lasciati soprattutto su Twitter. La nota conduttrice televisiva aveva spiegato di essere pronta a una nuova avventura e tantissimi tra i suoi followers avevano creduto che Barbara sarebbe presto tornata in TV. E, invece, è accaduto l'inaspettato. Niente televisione per Barbara Radurso che ha deciso di ampliare i suoi confini online. Vestita con un piagama rosa e con in mano una tazzina di caffè, la conduttrice ha postato il primo video sul suo nuovo account di TikTok. Siete pronti a una busta shock? Oggi è il mio compleanno. Allora stavo pensando all'anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi, voglio condividere con voi. Anzi, inizio io, voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo. Parto io ma poi ci siete anche voi eh. Ci vediamo qua, su TikTok. Col cuore, 67 anni e non sentirli. Dunque, per la conduttrice che ha deciso di rimanere al passo con i tempi e proseguire il suo rapporto con i tanti fan su una piattaforma che, generalmente, è più avvezza ai giovani. Si vedrà, poi, nei prossimi mesi, se ci saranno novità per la D'Urso anche sul piccolo schermo. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.